Buon pomeriggio amici sportivi collegati dal Saraceno di Ravanusa, Licata, Canicattì, le due squadre in campo. Alla ricerca di Gioacchino Catania, il cross ancora di prima sul secondo, palo c'è Petrucci, tutto solo, palla in mezzo, il gol. Il Canicattì va in vantaggio con Giancotti, difesa del Licata, completamente assente in questa situazione. Rotulo, pallone direttamente in aria, liberato, poi Murgia carica il destro, alto, scarsa coordinazione del centrocampista Sardo. Però il Licata potrebbe ripartire in contropiede, Rotulo in posizione regolare, Minacori, attenzione, Giannone recupera questa sfera sporca, prova a entrare in aria, Giannone, 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 il cross, Minacori, la parata di testa grossa. E' il miracolo di testa grossa sul primo palo e poi... E forse l'arbitro decide che va bene così, infatti, duplice, Fischio, Licata, 0, Canicattì, 1 al settimo, ottavo minuto, anzi scusate, ha segnato Giancotti. Però il Bonilla, Bonilla che punta Calaiò, entra in aria l'argentino, il tiro, Murato, ma ancora Canicattì, cross, basso, anticipato all'ultimo istante. Catania da Murgia ed è corner per... Arriva il cross, Raimondi sul secondo palo, dimenticato da tutti. Minacori ancora una volta trattenuto, pallone che arriva comunque a Rotulo, Rotulo, il passaggio per Minacori, posizione regolare, Minacori. E l'ultimo a toccare è stato, secondo l'arbitro, proprio lui e non c'è nulla perché volevano un calcio di rigore i giocatori del Licata sull'intervento del portiere in uscita. L'arbitro ha detto non c'è. Che ritorna da Sidibè, salvia, altro pallone per Sidibè, gioca di prima il Canicattì, posizione di tiro Giancotti. Due a zero del Canicattì e doppietta, una giocata perfetta del Canicattì, Licata fermo sulle gambe e un tiro sul secondo palo.